Reintegrato nel posto di lavoro grazie alla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza che smontano in toto le accuse dell'azienda che lo aveva licenziato accusandolo di essersi appropriato di un cellulare della stessa azienda. La tecnologia moderna può avere mille funzioni, anche quella di rappresentare un elemento decisivo in una causa di lavoro ed annullare dopo un anno e mezzo un licenziamento che il giudice bolla come illegittimo e di reintegrare i lavoratori in azienda con il versamento anche di tutti gli arretrati. La vicenda ha visto protagonista un magazziniere di Martinsicuro di 41 anni in servizio fino a giugno del 2014 in un'azienda di Corrieri nelle Marche a Monteprandone. Un anno e mezzo fa il cittadino di Martinsicuro di fronte ad alcuni addebiti per l'azienda si sarebbe appropriato di un cellulare era stato licenziato per giusta causa, provvedimento che però è stato impugnato dall'avvocato Francesco Antonini. E quelle stesse immagini portate come elemento di prova in sede di causa del lavoro hanno ribaltato i termini della questione. Lo scorso 29 dicembre infatti il giudice del Tribunale del Lavoro di Ascoli, Tiziana Decclesia, ha accolto in toto il ricorso del lavoratore per l'assoluta mancanza, si legge nel dispositivo, di prove e dunque l'assoluta insussistenza di infondatezza delle contestazioni disciplinari alla base del licenziamento. La ripetuta visione delle immagini, sottolinea Francesco Antonini, ha consentito di accertare la correttezza della condotta posta in essere dal lavoratore e il suo regolare svolgimento delle mansioni che gli erano state attribuite e dunque l'impossibilità di attribuire al dipendente la benché minima violazione del rapporto di fiducia.